I carabinieri del Nassri Bari hanno sequestrato una tonnellata e 300 kg di prodotti caseari, mozzarella, scamorze, caciocavalli, in parte privi di etichettature e in parte con termine minimo di conservazione da tempo superato. Il maxi sequestro è scattato all'interno di un deposito realizzato abusivamente da una ditta che commercializza prodotti caseari. Il servizio veterinario, intervenuto sul posto su richiesta dei militari operanti, ha disposto l'immediata chiusura del deposito e la distruzione della merce sequestrata. Il controllo, nato da precedenti attività di intelligence che avevano fatto emergere l'anomala presenza di furgoni frigo in area geografica priva di qualsiasi azienda di produzione o commercializzazione di prodotti alimentari, ha impedito che alimenti potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore, per un valore di circa 30.000 euro, venissero immessi nella filiera commerciale nazionale. Al gestore del deposito abusivo e a due commercianti di prodotti lattiero caseari, intenti ad effettuare operazioni di carico e scarico al momento dell'intervento dei carabinieri del NAS, oltre al deferimento, sono state elevate sanzioni amministrative per 10.000 euro. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli in campo nazionale disposti dal Comando dei Carabinieri per la tutela della salute, volti a monitorare il rispetto delle normative di settore e delle attività dedite alla lavorazione e commercializzazione del latte dei suoi derivati.